Il contenuto dell'articolo, cos'è una crema per l'abbronzatura, struttura come funziona, tipi di crema abbronzante, la migliore crema per l'abbronzatura con bronzer, senza bronzer con formicolio, crema per il viso, sunblock, crema solare nel solarium, crema al pepe per abbronzatura, il prezzo della crema per l'abbronzatura, come scegliere una crema per l'abbronzatura, una condizione importante per un'abbronzatura corretta e uniforme, è l'idratazione e la nutrizione dell'epidermide, che fornirà un mezzo di cosmetici decorativi, crema per l'abbronzatura, proteggerà la pelle dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti, l'abbronzatura durerà più a lungo, il suo colore sarà più saturo, questo articolo prenderà in considerazione il principio della crema, la sua composizione, i tipi, i criteri di selezione e le recensioni dei clienti, tutte queste informazioni ti aiuteranno a fare la scelta giusta, cos'è una crema per l'abbronzatura? Un prodotto cosmetico usato prima dell'abbronzatura in un lettino abbronzante è chiamato crema abbronzante, comprende diversi gruppi di sostanze, il cui compito principale è proteggere la pelle dall'asciugarsi e darle una tinta uniforme al bronzo, mentre se in un lettino abbronzante, molta umidità evapora dalla superficie della pelle, Se non usi almeno una normale crema oleosa, la pelle potrebbe seccarsi e iniziare a staccarsi Struttura le creme abbronzanti sono diverse dai semplici prodotti idratanti e dai prodotti abbronzanti Contiene sostanze speciali che non bloccano l'accesso dei raggi UV al corpo e non contiene sostanze che hanno un effetto sbiancante, in modo che l'abbronzatura si distenda più velocemente La composizione dei cosmetici abbronzanti può includere i seguenti gruppi di sostanze I bronzer sono attivatori dell'abbronzatura naturale, carotene, noce, enne Aumentano il tasso di produzione di melanina da parte del corpo e la melanina è un pigmento naturale, la cui quantità nel corpo determina Il colore di capelli, occhi e tono della pelle Più è grande, l'ombra è più scura A seconda del numero di acceleratori, 1, 3, 5, viene determinato il grado di intensità dell'abbronzatura Acido formico o metanico, aiuta ad espandere i capillari, aumenta il flusso sanguigno verso lo strato superiore dell'epidermide, che accelera la produzione di melanina A volte vengono utilizzati formicolio artificiale Estratto di menta, mentolo, ha un effetto calmante Olio di semi d'uva, idratante Oliva, legno di sandalo e burro di karité proteggeranno da allergie, arrossamenti, che spesso si osservano nelle donne con pelle sensibile Olio di cannabis, aumenta la sensibilità del corpo alla percezione delle radiazioni ultraviolette, aiuta ad essere assorbito da nutrienti, vitamine di altre sostanze Il complesso, che comprende olio dell'albero del tè, olive, pantenolo, è chiamato biosina Si prende delicatamente cura della pelle, allevia l'irritazione Coenzima Q10, Celtox, Ederline L, Purelyft, M, AP, Peptidi, Sod, rendono la pelle più elastica ed elastica, idratano, ammorbidiscono, prevengono i processi di invecchiamento Come funziona la direzione principale dell'azione della crema solare è di stimolare l'epidermide a produrre la propria melanina, che conferisce a tutta la sua superficie una bella tonalità bronzo Questa stimolazione può verificarsi a causa dell'azione di componenti naturali, carotene, noce o ennet, sulla superficie della pelle O attraverso l'attivazione di processi interni mediante acido formico Dopo aver applicato creme con un tale acido nella composizione, si avverte formicolio, arrossamento Ciò significa che la circolazione sanguigna è aumentata e la produzione di melanina è più rapida Per saperne di più lo spuntino giusto per dimagrire, ricette di esempio tipi di crema abbronzante a seconda del tipo di pelle Viene selezionata anche una crema per massimizzare l'effetto di andare in solarium e non farsi del male I principali tipi di prodotti abbronzanti sono i seguenti Con i bronzers, includono elementi che enfatizzano una tonalità esistente Contribuendo a ottenere un colore più scuro La durata media della loro azione è di una settimana, dopo di che vanno naturalmente Quando fanno la doccia, immersi nell'epidermide Una bronzatura acquisita con i bronzer rimane Adatta a donne conciate e abbronzate Con acido formico o effetto formicolio Attiva il movimento del sangue con l'effetto di formicolio Formicolio Il flusso sanguigno accelerato accelera la produzione di melanina Contribuisce alla rapida abbronzatura Non adatto a pelli sensibili Può causare gravi irritazioni Con effetto arrossimento corpo Aiuterà nel più breve tempo possibile per diverse procedure nel solarium Per ottenere una tonalità ricca e profonda Ciò accade a causa della saturazione attiva delle cellule della pelle Con ossigeno puro e aumento della circolazione sanguigna Che stimola la produzione di melanina senza una sensazione di formicolio Come quando si usano rimedi formica Adatto a pelli sensibili La migliore crema per l'abbronzatura L'industria della bellezza offre una vasta gamma di prodotti abbronzanti per ogni tipo di pelle Con l'aggiunta di molti componenti Che hanno scopi diversi Prima e dopo l'abbronzatura Creme separate per viso e corpo Di seguito sono riportati i prodotti con le etichette più comuni sulle etichette Riconoscendo il significato del quale puoi facilmente scegliere quella giusta Con bronzer le creme perlettini abbronzanti con un effetto abbronzante nella loro composizione Hanno necessariamente una serie speciale Di sostanze in diverse quantità Che vengono applicate sulla pelle già leggermente abbronzata Opacizzano la pelle La rendono immediatamente un po' più scura Nome Tanni Maxx Gold 999,9 Lozione abbronzante scura Antinvecchiamento Più pregiata Prezzo 1580 rubli Caratteristiche Volume di 200 millilitri Tripla concentrazione di sostanze abbronzanti Acido ialuronico Per pelli secche e appannate Con aroma fruttato Vantaggi Adatto a qualsiasi tipo di pelle del viso e del corpo Idrata in profondità Effetto anti-invecchiamento Contro No L'effetto oscurante del bronzer è a breve termine Dopo alcuni giorni viene lavato via Cancellato dalla pelle Dopo il lavaggio La bronzatura acquisita nel lettino abbronzante rimane e spesso risulta più scura che senza applicare la crema Nome Devoted Christians Poli di Dirty Love Prezzo 3000 r Punto e virgola Caratteristiche Volume di 200 millilitri Abbronzante ad azione istantanea con un complesso di sostanze toniche e anti-invecchiamento Non contiene DHA abbronzanti ad azione ritardata che durano per diversi giorni Vantaggi Effetto istantaneo Componenti naturali Enfatizza magnificamente un'abbronzatura naturale Contro Lavato via lo stesso giorno Odore sgradevole Senza bronzer Una delle proprietà dei bronzer è di lavarsi via dopo poco tempo Coprono il pallore iniziale della pelle Ma se la ragazza è naturalmente scura, puoi farne a meno Nome Australian Gold Dark Tenning Accelerator Prezzo 150 r Punto e virgola Caratteristiche Volume di 15 millilitri Contiene vitamine A e D Complesso di biosina Olio australiano naturale Senza abbronzanti Vantaggi Fornisce un effetto rapido, morbido e duraturo Un odore gradevole Contro Duro spremuto dalla confezione Non pagare in eccesso per la visibilità a breve termine di un'abbronzatura Che si stacerà in due o tre giorni È meglio acquistare un prodotto con un gran numero di componenti che contribuiscono alla produzione intensiva della propria melanina Allo stesso costo, nome, Davines Sutan Maximizer Prezzo 2499 P Punto e virgola Caratteristiche Volume di 150 millilitri Amplificatore idratante con olio di argan Senza protezione UV Vantaggi Nutre l'epidermide Rapidamente assorbito Contro Costoso Per saperne di più cottura a vapore della pelle del viso Prima della pulizia con formicolio La sensazione di formicolio dopo aver applicato l'effetto di formicolio significa che il processo di circolazione del sangue sia intensificato La pelle acquisirà molto presto la tonalità desiderata Questo è uno dei mezzi migliori per ottenere un rapido risultato in diverse visite al Solerium Nome Soleo Basic Tingle Bell Prezzo 60 P Punto e virgola Caratteristiche Volume di 15 millilitri Contiene aloe Caffeina Olio di zafferano Bronzer Estratto di alghe rosse Vantaggi Calma E nutre Aumenta l'elasticità dell'epidermide Poco costoso Contro Solo piccoli pacchetti Dovresti stare attento quando acquisti un prodotto con acido formico se hai la pelle sensibile Un formicolio può causare eccessiva irritazione o una reazione allergica Nome Nome Emps Natural Hot Bronzer Prezzo 3800R Punto e virgola Caratteristiche Volume di 300 millilitri Non contiene parabeni e glutine Con l'aggiunta di DH ad agli idrossiacetone Una sostanza proveniente dalla canna da zucchero Aroma di pesca Vantaggi Molti ingredienti naturali nella composizione Dura a lungo Contro Non rivelato Crema per il viso Sandblock La pelle umana può variare in diverse aree del corpo Quindi L'epidermide del viso è più sensibile Specialmente nei punti intorno agli occhi E necessita di cure speciali Che forniranno Creme per abbronzare il viso Nome Australian Gold Smooth Faces Prezzo 2100R Punto e virgola Caratteristiche Volume di 120 millilitri Attivatore di abbronzatura ipoallergenico per viso e decolletè con effetto calmante Senza profumi Punto e virgola Vantaggi Insipido Si assorbe rapidamente Non lascia lucentezza grassa Non provoca allergie Contro No Sono più delicati nella loro composizione e sono destinati alla pelle delicata Hanno una consistenza leggera Che assorbe rapidamente senza aggiungere lucentezza oleosa Nome Tan Master intenso Prezzo 239P Punto e virgola Caratteristiche Volume di 120 millilitri Per viso e corpo Aroma di cioccolato Consistenza leggera Per ragazze scure e abbronzate Vantaggi Due punti facile da applicare Mantiene l'idratazione e la morbidezza della pelle Prolunga la durata dell'abbronzatura acquisita Economica Contro Aroma invadente Crema solare nel solarium Dopo essere stata esposta ai raggi ultravioletti L'epidermide deve essere ripristinata e nutrita Per questo Una serie di prodotti per la cura del doposole sono destinati Nome Tanni Maxx Caribbean After Sun Cooler Prezzo 574R Punto e virgola Caratteristiche Volume di 100 millilitri Raffredda e lenisce la pelle dopo l'abbronzatura Elimina i rossori Fissa l'abbronzatura Pro Due punti adatto per pelli sensibili Contro No Dopo la crema solare Le creme idratano la pelle secca e alleviano l'irritazione Aiuteranno a consolidare il colore risultante Migliorare l'effetto della visita di un solarium Nome Garniambre solaire Prezzo 470R Punto e virgola Caratteristiche Volume di 200 millilitri Migliora Preserva l'abbronzatura Non crea l'effetto di pelle appiccicosa o grassa Contiene Vitamina E Olio di cocco Glicerina Vantaggi Idrata la pelle Non lascia macchie sui vestiti Economico Contro Non rivelato Crema al pepe per abbronzatura Oltre ai prodotti ad effetto formicolio Ci sono cosmetici perlettini abbronzanti con l'aggiunta di estratto di pepe Questo estratto svolge la stessa funzione Accelera il flusso di sangue all'epidermide Avvia il processo di rapida generazione di Melanina Nome Tan Master Effetto termico Prezzo 120p Punto e virgola Caratteristiche Volume di 15 millilitri Contiene estratto di peperoncino Vitamina PP Estratto di aloe Tè verde Tannino Ha un leggero effetto riscaldante Vantaggi Allevia il gonfiore Non provoca allergie Restituisce elasticità all'epidermide Contro La composizione di peperoncino La composizione contiene parabeni Per saperne di più è le glutamina Quali alimenti contengono come assumere con perdita di peso e bodybuilding il peperoncino a un effetto riscaldante Espande i pori e i capillari I prodotti che lo contengono delizieranno le donne con pelle problematica poiché il pepe aiuta a eliminare la cellulite Nome Emerald Deimojo Dark Bronzing Sauce Prezzo 940p Punto e virgola Caratteristiche Volume 250 millilitri Estratto di pepe di chienna per un effetto riscaldante Stimolazione della circolazione sanguigna Olio di sandalo Estratto di aloe vera idrata Lenisce Vantaggi Effetto rapido Prezzo basso rispetto a strumenti simili Contro Due punti Odore specifico di sandalo Il prezzo della crema per l'abbronzatura Dopo aver esaminato i criteri e le proprietà principali dei diversi tipi di crema, puoi pensare a quale strumento acquistare Il costo dipende da quali componenti sono inclusi nella sua composizione, più complessa è la composizione, più alto è il prezzo Un altro fattore che influenza il costo elevato è il volume degli imballaggi, un prodotto di lusso più piccolo può costare di più rispetto a prodotti più semplicemente più grandi Nome della struttura volume ml Prezzo Pag Tan Master Intenso 120-239 Torta all'arancia soleo 1600 Australian Gold Accelerator Bronze 250-2035 Creazioni dedicate già in maniera 364.100 Come scegliere una crema per l'abbronzatura I mezzi per la pelle dovrebbero essere scelti con cura Dipende non solo da come giace l'abbronzatura, da quanto tempo dura, ma anche dal grado di danno dei raggi UV che il corpo riceverà Dopo le procedure nel solarium Quando si sceglie un agente abbronzante, devono essere considerati i seguenti parametri Determina il tipo di pelle, ciò contribuirà a restringere rapidamente la ricerca Ad esempio, per quelli sensibili e inclini alle ostioni, i prodotti con acido formico pepe non sono adatti Causeranno irritazione Una reazione allergica Se hai bisogno di un risultato immediato, sono adatti fondi con bronzer istantanei Per un'abbronzatura più lunga, dovresti cercare prodotti con abbronzanti ad azione ritardata di H La presenza di componenti idratanti, aiuteranno a evitare il peeling La carnagione scura durerà più a lungo Può essere oli, ad esempio, da semi d'uva o argan L'ultravioletto provoca la comparsa di rughe, quindi l'epidermide ha bisogno di un complesso vitaminico Il coenzima Q10 mantiene l'elasticità in combinazione con altre vitamine Non dimenticare i fondi dopo l'abbronzatura, aiuteranno a preservare e consolidare l'effetto Spesso, le aziende cosmetiche hanno una serie completa di prodotti per la cura che includono lozioni prima dopo l'esposizione ai Raggi UV Una cura del viso separata A volte una lacca per capelli Un balsamo per le labbra Il negozio di cosmetici online per saloni abbronzanti offre spesso sconti Promozioni per diversi gruppi di prodotti che è possibile ordinare immediatamente La consegna della posta a Mosca e San Pietroburgo è economica Il prodotto stesso non differisce da quello sugli scaffali del negozio